Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind Allora ragazzi ci eravamo lasciati qua Allora, tanto buon anno perché ho cambiato l'anno Vabbè, devo diventare 18, vabbè, a parte questi scherzi brutti, queste cavolate Allora, mi è arrivato un messaggio particolare Dirigenza, vabbè, di Livorno, problema di ruolo Un po' parole c'è scritto che secondo loro ci serve un centrambista Perché se si rovesse rompe qualcuno, si qualifica qualcuno Siamo nella cacchina in quel ruolo Ma secondo me è stato un po' esagerato Perché comunque anche se non siamo messi benissimo qualcosa ci abbiamo Resta rifatto che detto questo in approfitto per chiedere qualche spicciolino alto E io provo a chiedergli 6 milioni Vediamo un po', metto rischio per la Coppa di Ampione, insomma, per la Champions Boh, mettiamo così E mettiamo così Speriamo bene, eh Vicky 6 milioni sarebbero un po' di soldi per noi Detto questo, guardiamo un po' di mettere qualcuno sul mercato Sempre se c'è qualcuno che la mette sul mercato Allora Assolutamente lui, vai Uno Mastur no, Barella nemmeno Perché anche se fa schifo comunque il nostro Rismano Ceri nemmeno, Amistro nemmeno Angileri è già sul mercato E ci rimane chiaramente Brotonie, ma chi è? Boh, vai Di trasferimenti Maximin Io ragazzi lo schiocco vi Sul mercato Perché se dovesse arrivare un'offerta buona Lo potrei anche vendere Dato che comunque è una riserva Ehm, poi vabbè Sono loro Abner è lì È già andato via Prestito Nesbaro c'è già sul mercato Maicon è qui Sì, è qui del prestito Eh Allora è già sul mercato Ralt è sul mercato Vabbè, come ginga Va a posto così E insomma E qui siamo a posto Ora però Prima di poter fare qualche offerta Ci dobbiamo arrivare qualche offerta Perché se no Insomma, veramente Vanno a livello di vattrini Intanto guardiamo se Aldo ha accettato Beh, butta le via Quasi 5 milioni Accettiamoli E adesso Possiamo un po' gestirci Possiamo un po' far qualcosa Abbiamo a disposizione Non 9 milioni Perché lo stipendio non ce l'abbiamo Mettiamo un 5 e 5 Vai 5 e 5 Con quasi 70 mila di stipendi Vediamo un po' cosa possiamo fare Allora, qui vabbè C'è i classici promettenti Vediamo se c'è qualcuno di buono No, forse più che promettenti È meglio andare qua Andiamo su qualsiasi ruolo Come ho messo Ai tempi No, campione Magari se c'è qualcuno Scadenza di contratto Allora Attenzione ragazzi Perché c'è Ericsson Scadenza di contratto So che sarebbe Raramente Quasi impossibile Prenderlo Perché comunque È un giocatore Veramente Di alta classe E farebbe Diciamo La sua Porca figura A Livorno Boh Vabbè Intanto ho provato A fare un'offerta Perché Se dovessi venire Sarebbe sicuramente Un giocatore Di Appunto Come ho detto Alta classe E sicuramente Farebbe molto comodo A noi C'è anche Vigundoga Guardiamo un po' Boh Procediamo E guardiamo un po' Se magari verranno O meno A questi giocatori Ecco Infatti Strano L'avremmo detto Proviamo Boh 170 Vai Invece per Ericsson Era 120 Proviamo 140 Vai anche lui Via Comunque Nel frattempo Siamo arrivati qua Dobbiamo giocare Contro il Carpi Già laggiù Tanto Classifica La Sampdoria Ci ha raggiunto Addirittura Ci ha superato Siamo quarti E niente Iniziamo questa partita E guardiamo un po' Cosa accadrà Allora Qui Va bene Ma si Da venire il Carpi La maglia Ufficiale Noe no Strano Vabbè Pant L'ho già detto In precedenti video Insomma Blanco Vai E va bene così Iniziamo Sotto l'acqua Iniziamo bene No Questa serie di partite Nel video Insomma Dai E tira Mastur Eccola lì A Kim Mastur La slocca lui Andiamo 1 a 0 Al trentesimo Del primo tempo Poche azioni Però Nonostante Questo Questa volta Siamo riusciti Come ho già detto Pur non creando tanto A portarci in vantaggio A Kim Mastur 1 a 0 Con deviazione Finisce così Il primo tempo Nonostante Ci siano state Molte occasioni Da tutte e due le parti Come ho già detto Comunque Nel goal di Mastur Siamo in vantaggio Siamo in vantaggio 1 a 0 Bene o sì Ficché alla fine Mello Crea poi E fa go Piuttosto che crea tanto Non fa niente Insomma Va detto questo Niente Voglio fare Natti 1 o 2 cambi Voglio elevare Punto Mastur La sole del goal E Cerni E sposta così E mette Zemelo Insomma E niente Appunto Mette Pereira Come ho già detto ora Zemelo Detto questo Iniziamo il solo tempo Lanco Smanaccia Bravo Blanchino Via E tira Marchino Dai lì No Cosa ha sbagliato Pereira Ragazzi Era porta libera Maledetta la misera Ma perché davanti Rart A posto di schiacciarla Maremma Canede Vellena Quella che inna lì Comunque E poi Eccolo lui E che culo Io dopo l'Armstrong Anche se in realtà Pesso Tu sia Di nuovo Che gollo Insomma 2 a 0 Che culo Che culo E che culo Dai Partita Naturalmente Cusa Ragazzi Ma come li vediamo Sì Non si 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 Insomma 2 a 0 Ci mette Mezza firma Armstrong E mezza firma Il Carpi Stesse E andiamo E tira Boh è bomba Zikovic Però niente Mi portano la presa E finisce così 2 a 0 Anche se non è stata Una partita molto emozionante Da appunto Revista Delle occasioni È stata Comunque Una partita Che Ci ha visto Vince E appunto Porta a casa 3 punti 3 punti Molto importanti Comunque Detto questo Torniamo a noi Torniamo a carci mercato Guardiamo se È successo qualcosa Allora Innanzitutto Come avete visto Ci sono delle offerte Però È orientato dal presto Mekon È orientato dal presto Morelli Che ora Chiaramente Smetterò In list Trasferimenti E poi Sono due offerte Una per Angelino No Angelino ragazzi Non si tocca A meno che No non si tocca Non si tocca Angelino Che poi Prato Non è Nella mia offerta Si è eclatante E in realtà È detto Così sì Dai Fa due spiccioli Si potrebbe Dà via Allora Vi intanto Fammi metti Come ho detto Prima Morelli Che vabbè Si è rincontrato Chi se ne frega E Maicon In Dov'è Maicon Maicon In list Trasferimenti Vai Ale E niente Andiamo avanti Vediamo un po' Se arriva qualche offerta O Si sa Diciamo Il risonto Ecco Delle offerte Le si è fatte Di entrata A Gundogan E Eriksen Alla basta Io Gundogan Non la voglio più Piuttosto Più rischio Prende Eriksen Che mi osterebbe Eventualmente Anche di meno Eh infatti Rifiutate anche lui Proviamo 160 Sono tanti E da 120 A 160 Sono 40 Di più E soprattutto Per noi Che non c'è una lira Sono tanti Allora Offerta per il trasferimento Dragoschi No ma Puppa No Puppa Dragoschi non si tocca Piuttosto blanco Fatemi un'offerta Più blanco No Io voglio Vattro e 50 Almeno Vai Allora Vi siamo arrivati Alla Concedetemi di fare Vesto Di simularla Per favore Perché Anche se Mi era cavolata Diciamo è veramente Un obiettivo Non secondario Di più Quindi Fra di Gioancasa Che in teoria Qua di Gioancasa C'è più possibilità Di vittoria Insomma Tutto questo Per favore Fatemela Simulare Tanto 1-0 Amistrong sui rigori Sto fa Sarto 1 2 3 Va Meno male 1-0 Si è vinto C'è l'ottorino di Mastur Non mi gaiba per niente Speriamo non si sia distrutto Va vedi L'ottorino infortunato Mastur 3 giorni Va bene Vai Tanto Andiamo avanti Madonna santa Cosa vuoi Tò 10 15 Tò 165 No Non c'è l'arriva No Da c'è l'arriva Regola col co Fai vedere Vai Tò Così O è proprio sì Se viene bene Se no E mi è che volendo Non c'è una lira Vai Stanno accettando L'offerta La contro offerta Per right Insomma Siamo arrivati Alla seconda partita Di Amperato Di questo video Chiaramente E niente Andiamo a giocare Con il terzo solo in casa Intanto Guardiamo la classifica Siamo terzi Perché la Sampdoria è pareggiata L'Inter Non so quant'era Comunque è giù E la Juve Ha pareggiato Anche l'epica Era 31 punti 17 partite Era 32 18 partite Insomma Iniziamo Questa partita La seconda partita Di Amperato Allora Andiamo un po' Tac No Seconda maglia Per il Sassuolo Masturri no Perché comunque Anche se non c'è Il cerchio Tira è stanco Perché se ne è fatto male Poi se fa Metto Faccio giù A Zemolo A posto di Cerni E lo sposto poi C'è un trampista Difensivo E Vai faccio riposta A San Rimetto Ciccherini Via vai Iniziamo Battiamo noi C'è inizio E detto questo Come on guys Come on guys E vai Marchino No Non ci voglio Redi Palo A parte che era fuori gioco Però che Cazzo Mamma mia Palo del Sassuolo Contrasco pulito Che ferma L'avversario E tira Pereira Eccola lì Andes Pereira La tocca lui Sul finale del primo tempo 1-0 Meritato vantaggio Perché A parte Il palo che ha preso Prima Il Sassuolo con le stiane Per il resto Abbiamo dominato noi Seppur Non siamo arrivati Svariate voi Per avanti alla porta Comunque Meritato vantaggio 1-0 Pereira Finisce così Il primo tempo 1-0 Go di Pereira Sul finale Sono un po' meno male Forse ha preso il go Dopo averlo fatto E niente Andiamo a fare il secondo tempo Guardiamo un po' Mamma mia Dragoschi Super parata Guardate che Abbiamo detto Guardate che non era così semplice Era veloce Il terremissiro Ora non so se andava dentro Comunque Dragoschi Armi strong Metto Maximin Levo All the chic Anche se non è più stanco Però voglio levarlo E poi Volevo levar Sar Cioè mette Sar per Angelino Volevo levar Angelino Per mette Sar Che Angelino Giova sempre Quindi un pochino di riposo U li fa male Tira Zivkovic Mamma mia Zivkovic Ha rischiato di fare Il secondo gol Bella roba Cerni Tio Bono Potevamo chiudere la partita No No Meno male Meno male fuori Mi sono cattato addosso E andiamo 1-0 Finisce sì Vinciamo anche questa partita Video Dal punto di vista Le partite Iniziato Nel migliore dei modi Con due vittorie Diciamo Giovate E tre totale Finchè c'è anche quella Della Opa Italia Comunque Torniamo a noi Torniamo al carciomercato Ora vi alleno Ragazzi Io stavo pensando Che per cercare di prendere Questo Eriksen Io ho tralasciato Quasi metà Del mese di gennaio Metà del carciomercato Quindi Ora Nel frattempo Io proverei a fare anche Valle che offerti La prete i giocatori Ecco Allora ragazzi Io proverei a prendere Anascio E ci vorrei schioccare lui Aspettate Dov'è Maximin Io lo so Che D'attaccante Ce l'ho già Però Bimbi Anascio Veramente È forte E sinceramente Mi piacerebbe Mettito Titolare Ecco Quindi Vorrei provare A prenderlo Attenzione ragazzi Ma ha accettato Eriksen Li accetta Subito Non ci voglio credere Ragazzi Il prossimo anno Abbiamo Eriksen Non ci voglio Eriksen Non ci voglio Eriksen Non ci voglio Eriksen Non ci voglio Eriksen Ragazzi Arriverà il prossimo anno Però un giocatore Che fino adesso Vale 30 milioni Cioè Oltre al fatto che è utile Diciamo l'utilità Del giocatore C'è anche il discorso Eventualmente di vendita Se dovessimo vendere Quanto cazzo vale Mamma mia ragazzi Abbiamo preso Eriksen Ora è vero Il calciomercato Purtroppo termina E quindi Già Il discorso Da Nascio Va veramente A farsi fottere Però Chi se ne frega Chi se ne frega Ragazzi Ho preso Eriksen Madonna santa Allora Poi Mentre parlavo Stavo andando avanti Comunque Ho venduto Ralt Qui niente Nascio niente Lascio anche i perdi Comunque Nel frattempo Siamo arrivati A fare la terza Partita del video E niente Gioia in casa Contro la Roma Che è prima Partita è molto Molto importante E niente Andiamo a giocare Vediamo un po' Va Giottori ci sono Via Iniziamo Vai Sotto la neve Brutta Mamma mia Non mi garba Iniziamo noi Battiamo il calcio D'inizio Dai Ma che culo Maremane Ma che culo Non è autogop Perché comunque Vediamo il pallone Ci andava uguale Però Maledetta La misera Vediamo la prendeva Dragowski Insomma 1 a 0 Florenzi Per metà E vai E vai Rikki Fare gioco Io ho Pjanic Se è come la realtà Sono rigori Per lui Vesti Mamma mia C'è mancato Un po' Ma è ancora finita Dragowski Bravo Tieni la lì Finisce Finisce Si primo tempo 1 a 0 Però Anche se C'è stata l'azione Con la punizione Di Pjanic Ci siamo un po' Risvegliati La qualcosa Si sta creando Anche se poi Non riusciamo Nemmeno a tirare In porta Ecco Comunque dai E toccandomi Sempre fattibile Vai Rikki In bocca Ragazzi Ma si può Ma tira L'angolata Vai Tira Ci ha messo La gambe A difensore Chi è Florenzi Vai Sar E Maremma Ne hai un po' Di forza No eh Addio Mamma mia Meno male Fuori Cambio Anche se manca poi Non so nemmeno Se ce la farà Entra Voglio far così Voglio mettere Pereira A posto di Mastur Poi levare Cenni In mezzo di Zemmelo Però può spostare Spostare lo centrale Benassi A posto di Cenni Insomma Vabbè Così Bravo Dragoschi Credevo Fosse più semplice Evidentemente Mi sbagliavo Se me ne potevo anche bloccare Oh Zivkovic C'ha la prateria davanti Eh Lo fareò Eccolo Pereira Appena entrato Riquinito le cose Oh Ero carmo Perché lo tenete E qui Dico Vincere ragazzi Pompacolo Finisce così 1 a 1 Meno male Dai Almeno siamo riusciti Ad agguantare il pareggio Siamo rimasti Diciamo A livello di Differenza Punti No Almeno con la Roma Che dovrebbe Credo Se tutto era prima Eh E' uguale Siamo rimasti uguali Perché si è pareggiato Beh Comunque Insomma Torniamo al carciomercato E pensiamo già Alla prossima partita Che me l'ha detto Il telecronista Mentre giovo Ci vedrà giocare In Coppa Italia Contro il Napoli Ora la Coppa Italia Incomincia a farsi Un po' più seria Ecco Attenzione Vogliono Zirkovic De De Io provo Sì Sicuramente Rifiutano Se dovessero accettarsi Non avranno Cata di Vaini Ahio Vogliono Anghileri Anghileri Boh 500 Vai Tanto per Prendere qualche sordino in più Allora Siamo arrivati Eh Alla partita Che vi avevo annunciato prima Era di Opetano Intorno a Napoli Per nostra fortuna Anche se comunque Napoli è ugualmente forte Non so se l'avevate notato prima Eh Napoli ha venduto Guaini Quindi Manca un attaccante Parecchio importante Ora non so se l'hanno sostituito Un qualcun altro Si è rifatto che Per ora Basiamoci su questa Savi Comunque Allora Vediamo un po' Facciamo già Blanco Facciamo riposare Hernandez Mettiamo lo Zemelo A posto di Cerni Che poi chiaramente Zemelo viene spostato Centrale Perché è più alto E fa più comodo lì Eh Mettiamo Pereira A posto di Mastur E mettiamo Maximin A posto di Zikovic Sì Va Va bene Sì Iniziamo A riborda sotto la neve Un'altra volta Più a manca Napoli A quanto pari Che di solito Era una cosa Credo Impossibile O quanto meno Raria Vabbè Iniziamo Attenzione Zotta Madonna Zemelo De Cane No vabbè Ho voluto tirare io Sì era meglio Se andavo più Finissersi il primo tempo 0-0 Però Seppur non Clamorosamente Ci siamo resi Un po' più periolosi Noi di loro Dovevo far solo tempo Cambio Vieni Metto Barella A posto di Benassi Vai Luck Meno male Vai In bocca a blanco Dai eh Vi metto 3 contro 1 Vai Maximin Vai Eccola lì St. Maximin Lo sblocca lui Anzi 72 Buona idea Vi dirò Voglio essere onesta Non mi gasta Farire più A me questo è un petale L'alax Anche se si gioia Anche se non mi ispira Quindi sono contento Vanno contentissimi Però è arrivato Che si vince Quello fa sempre piacere 1-0 Maximin Tira Maximin Tiro Volevo provare Così Non ci voglio Rede Che zotta Si è fatto Ho fatto usci Il blanco Sperando ci arrivasse Invece 1-1 Allo scadere Ragazzi Non ci voglio Rede Finisce Sì Ora Regola Ci sono supplementari Che non c'ho ancora Capito nulla Di questa In Italia Deve si Andiamo a farci I supplementari Faccio anche un cambio Metto Tino Masturre E Zirkovic Vai Che è veramente Stanchi Finisce Come è finita La partita In sé per sé Le 90 minuti Regolamentari Il primo tempo Di supplementari Ovvero 1-1 E andiamo a farci Il secondo tempo Addio Addio Meno male Via Bravo Blanco So Finisco L'architettrice Parlamentari Rigori Voglio vedere Cosa succede Aspettate Eh Fatemi mettere Quel cos'è Perché sarri Uno fa Tirà Vai Vai Io sì Mamma mia Signore E piedide Prevedo Boh Non lo so Nemmeno io Sceltiti L'impiccionaia Attenzione Boy Che culo De Palogo Vai Maximil Mamma mia Che paura De Oh Caputate Il 7 Ristete Di buttarla Fuori Attenzione Enrique Bene To Fallo Il palonetto Stronzolo Attenzione Zikovic Ale Vai 2-1 Attenzione Roberto Roberto Nezzigne Mamma mia Riescatri Sbagliarlo Anche lui Attenzione Zemelo Ale Boy Ha paura Niente Go Non male 3-2 Attenzione Caleion Niente Go Attenzione Angelaino In inglese No scherzo Mamma mia Pirina Pirina Ha intuito La direzione Ma meno male Non l'altezza Attenzione Se la pari A bimbi Si vince Attenzione Blanchino Siamo tutti Nelle sue mani Niente Attenzione Rigore decisivo Chi è Lo ha Kim Attenzione Masturri Mamma mia E si passa Il turno Meno male Ale Passava il turno Anche se come Ti ritirò Sempre La notte L'italia Non è anche L'obiettivo Secondario Ma addirittura Di più Nel senso Conta meno Dall'obiettivo Secondario Mamma mia Meno male Via Ale Mi sono cato addosso Infatti Non so se avete notato Ti ritrovo Per mezzo secondo dopo Perché pensavo Pirina L'avesse presa Così Per nostra fortuna Ne è stato Torniamo E concludiamo Il carci mercato No Lasciamo stare Sta partita Via Lasciamola Via Conta che bisogna gioare Contra Bologna Boh Il Bologna Ha buttato fuori L'internet Ci voglio rete Allora Guardiamo un po' L'Udinese Boh 19 sono tanti No Voglio Ne voglio 22 5 Almeno 22 5 Perché comunque Zicco Mi c'è Mimigare Bam E Oh 4.50 Almeno Vai Aio 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 Hanno accettato La mia Troffetta Di 22 milioni 5 100 mila Auri Vediamo un po' Così come la Bellino Guarda c'è da pensare Che comprare La posta di Zicco Ragazzi Io il nome ce l'ho Sempre se Me lo voglio andare Ci proverò Comunque Intanto vi rai Altra offerta Vai Vai via Vai Vai cani Vai Vai al trapani Allora abbiamo 20 milioni E sono tanti Tanti soldi Si prova Si prova A prendere Si prova Ragazzi Ora proviamo Lo volevo prendere Prima però Poi ho lasciato Tutto per via Dell'acquisto Di Erics Guardiamo Se viene Vieni Che 16 Regola Vieni Ci sono Ora Però vogliono Sempre un sbotto Di soldi Maledetti Loro Proviamo Si Proviamo 16 Con Che mi si dà Con Mai Con Vai Ma a parte Ma era bello Accettato Eventualmente Se non Dovesse Venire Voglio Provare A prendere Anche lui Però Avevo provato A prenderlo Anziché In questo Mercato Nel precedente Cagliari Vediamo un po' Se viene Appena arrivato Non è vero Perché ci è arrivato A Veste estate Quindi in teoria Boh Proviamo Così 9 E mettiamo Anche lui Maico Chiaramente Cagliari Sempre Servisse Accettare Po venire Sarebbe Secondario Cioè In primis Vorrei Io nascio Spremmo bene Vediamo un po' Tanto Vi comunque Bisogna andare a fare La prossima partita Che ci vedrà Già A Bologna Antone Bologna E si giova Senza attaccante Cioè Si giova Con Diciamo L'attaccante Riserva Che è Maximil Quindi Già siamo Leggermente In difficoltà Perfetto La stanchezza L'orpetalia Vabbè Però Sì Gioiamo Sì Speriamo bene Intanto pensiamo A questa partita Qua Vai Se un neve A piove Stiamo Che in realtà Potrei farci caso Alle ondizioni De meteorologiche Che c'è scritto Prima di iniziare la partita Io però Tutte le volte Me lo scordo Quindi Per me è sempre Una sorpresa Comunque Iniziamo In questa partita Sotto l'acqua Spreiamo bene Boia cane Subito Meno male Non piace il palo E tiro All the chic Dio Buono Un'è uscita Tantissimissimo Va bene Dai Attenzione Punizione Per il Bologna Munier Vai Traversa Vai su Meno male E già due palli E pillano Vabbè Un paio Traversa Via però Per di Chissà se Alla prossima volta Alla prossima occasione Faranno Go Boia cane Destro Fra l'altro Di rovesciata Era lì Ed è Era più facile Farlo e sbagliarlo Però ha fatto Un disco Go E inoltre Ha portato in vantaggio Il Bologna Maledetto Lui Maledetto Insomma Era 0 Bologna Siamo sotto Però giusto Merita Di più Meritano di più Loro Fuori Aiò Ora ne fanno Trappolino Finisce Sì Il primo Tempo Meno male Solamente 1 a 0 Bologna Che ci stanno Prendo a pallonati E purtroppo Non si riesce A fare qualcosa Magari Io non so Qualche contropiede Niente Speriamo Il secondo Tempo Fossa Ambiare Qualcosa E Dalla Di là Vai Vai Astronauta Ti prego Pareggia Eccola Lì L'astronauta 1 a 1 Riquilibra Quale cosa La prima vera occasione Che mi avevo creato Siamo riusciti Meno male A fare il gol Del pareggio Meno male Stavolta La finalizzazione È stata Efficente Che culo Però De Cambio Allora Leviamo Mastur E mettiamo Perera E leviamo Cerni Anzi Anzi Leviamo Maximin Cerni va al posto Di Maximin E Zemolo Che è entrato al posto Di Maximin Va al posto Di Benassi E Benassi Al posto di Cerni Ci siamo Guardate Se mi sto spiegato male Attenzione Rigore Ho aspettato Fino all'eventuale Fischio dell'arbitro Perché Non mi pareva Si evidente Anzi Pensavo Che Pulgar Avesse preso il pallone Meno male Mi sbagliavo A quanto pare Insomma Rigore Attenzione Sempre Armstrong Eccolo lì Partita E il risultato Ribattato 2-1 L'astronauta Ci mette la firma lui Stavolta su rigore E andiamo Guardi Partita Per ora Ingiustamente Vinta Per ora Anche se fosse sbagliarmi Così Comunque Anche il risultato Ingiusto Ecco Perché Bologna Ha fatto Sperimenti Più di noi Però Devo essere onesto Quello che ha creato L'ha fatto Esclusivamente Nel primo tempo Nel primo tempo Bologna Scomparsa E andiamo Siamo riusciti A vincere Una partita Che inizialmente Sembrava Proprio Andare su binari opposti Meno male Vesta è stata di voglia E di atti veri Eh ragazzi Perché Guardate già le statistiche Perché veramente Siamo riusciti Nonostante Nonostante il pressing Del Bologna A far due go E addirittura Ribartere il risultato Insomma Bene o sì Comunque Ora regola Sì Dovremmo essere Alle conclusioni Del calciomercato E in sequenza Anche le conclusioni Del video No Quindi No C'è il Ma non ci voglio rete C'è un'altra partita Il 31 È lunghissimo Questo video Ragazzi Comunque Vediamo un po' Allora Qui Attenzione Il City Ha accettato l'offerta Per Io nascio Importante Ragazzi Ma giocatore chiave Ma per forza De E se non sbaglio Anche il Napoli Ha accettato l'offerta Però De Chi se ne frega Se dovesse venire Io nascio Però per sicurezza Se può Continua la trattativa Magari Boh Dovesse Serta Importante Vai Non allarghiamoci Vediamo un po' Se riesce Eventualmente Se dovesse venire Ad arrivare Prima della partita Contro il Napoli Eh infatti Rifiutato Stavo un pensiero Ma dai No Rifiuta No E Ma il con Mi serve Per la nascere Ragazzi Proprio Ora dove arriva L'offerta Maledetta La miseria Vediamo Di 100 Vai Così Come del resto A Cagliari Magari 10 Di più E mettiamo In chiave Che importante Anche se Non so Quanto abbia Cagliari Comunque Di Valutazione Totale Quindi Boh Non ci voglio Rede Cagliari Accetta E Arancio No Maledetta La miseria Proviamo 110 Vai Così Attenzione Maximin Lo vale Il Palermo Io lo do Eventualmente Per 4 E 4 È troppo Però C'ha anche 20 anni Ragazzi In teoria Potrebbe salire Un poeno Chissà Comunque Siamo arrivati Qui A giocare La partita Di Napoli E Io nascio Sempre se ripeto Dovesse venire Non è ancora arrivato Potrebbe Venire Dato che Ha accettato Comunque Il contratto Che ha ieri Però Aspetto Insomma Andiamo a fare L'ultima partita Di questo video Perché Effettivamente L'ultima partita Però Non vuol dire Che Il video Si conclude A fine Match Anzi Si conclude Mi sa Con l'ultima giornata Con l'ultime Ore del carciomercato Insomma Comunque Rigiuriamo A Tore Napoli Che si è già Giato in precedenza In Coppa Italia Che giocatori stanchi Io ci metto Già Dov'è? Metto già Zemelo Così come Del resto Pereira Faccio Già Dragoschi Anziché Blanco Anche se D'arte Prima D'arte Blanco E niente Ora Non lo sto leggendo Pioggia Bordalo Dunque Iniziamo Come ho già detto Prima Sotto l'acqua Stranamente E niente Battiamo Il carci Inizio Noi Dai ragazzi Mamma mia Dragoschi Con una mano Toglie Dalla porta Un pallone Probabilmente Ci andava Andava dentro Probabilmente Non lo so Comunque Breva Dragoschi E vai Maledetta La miseria Se non l'ancorciava Bene Ma perché Poi ci è andato Di sinistra Ci andava Di destra Era il suo piede Magari Forse la buttava Dentro Va bene Dai Mamma mia Mamma mia Ragazzi Sono stato Un momento Non ci ho capito Una sega Perché ho visto Dragoschi Sta fermo Però bimbi Arriscava tantissimo Di Dragoschi È buona Lo farò Angelino Un a zero È partito Dalla sua fascia Dalla sinistra Ha fatto tutto lui Bellode Una bella triangolazione Grossa triangolazione Bella nomade Complimenti Sia Angelino Sia Angelino Ma anche a Pereira Schioccati Bello De una a zero Finisce proprio così Con il gol di Angelino Andiamo In riposo Anzi Andiamo al riposo In vantaggio Una a zero Vantaggio Forse è giusto Solo perché Noi Con fronte a loro Siamo stati più Siamo bravi a concretizzare Ecco Insomma Andiamo a far Il solo tempo E vai Armstrong Tiglio Bonodi Va bene Dai Addio 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 Maremma Cane Boi Ma questa è una maledizione Che il Napoli Deve sempre riuscì Poi a Fa il gol del pareggio Maremma Cane Era da solo Insomma 1 a 1 Che è a Goulam Mi pare Sì E vai Maximin E tira Tre ore Tre ore Non ci fare Maremma Cane Cambio Allora Levo Maximin Anche se E' più stanco Armistro Non me ne frega Metto Cerny E poi Levo Benassi E metto Masture E sposto Perera Sulla fascia No Non ci voglio Riede Ma dai Ma che Cura Rimasta lì Rimasta Poi fra l'altro Cullibali Ragazzi Maremma Puttana Davide Rimasta lì 40 giatori Mia in terra Boom Cullibali Giusto Attirato Che cazzo Vai 3 a 1 E' chiusa Via Che palle Caglion Boh Proviamo Sicco Armistro Da qui E' buona Vabbè Mi è andata Tanto Finisce Si 3 a 1 Napoli Peccato Perché era iniziato bene E poi tra l'altro Peccato Perché a livello di partite Concludiamo Il video E' male Con la sconfitta Appunto Però a regola La situazione Vabbè rimane Più o meno Invariata A livello di classifica Che poi alla fine L'importante E' quella L'importante Comunque Rimane Il più possibile Anzi Più possibile Fino alla fine Fri primi 3 Fatemi vedere un attimino Sì Meno male Siamo sempre lì Bisogna stare attenti giù Perché sono tutte lì Insomma Concludiamo Il carciomercato Via Allora Intanto Vi maximino 3,9 Saffo Accetto Sì Accettiamo Vai Meglio rischiare Poi lo vogliamo più Magari Poi Via E a nasce Allora Provo 120 Però sono tanti 120 Vabbè Allora Intanto Ho avuto Maximino Ma ecco Ianasho Ragazzi Ecco Ianasho Che bello Ora però Diciamo che Bisogna Cercare Di Magari Non lo so Prendere qualche Giocatore Per la rosa Perché Quanti siamo Ora Siamo un po' Poi Fra l'arte In attacco Intanto metto Subito Ianasho Neve In attacco Comunque A livello Di riserve Siamo messi Malino Quindi Guardiamo Non lo so Trovar Alcarchi Svincolato Boh Non credo Però Qualche affare A buon prezzo Ecco Il giocatore Da prendere A buon prezzo Ci sarebbe lui Che non è male Però Costa un po' Troppo Boh Proviamo Quale affare Offerta Sì Tanto Per Che ci si può Mettere Per magari Non lo so Allevia Eventualmente Un po' Il prezzo Boh Ci metto Che a sbarro Boh Per te Bella È venuta Stavo pensando Anche Un'altra cosa Ovvero Che Ho provato A spostare Tutto il budget Trasferimenti Nei budget Stipendi Era mai venuto All'incirco 87.000 Perché Non vedere Se c'è Qualcuno Magari Da poter Prende Eventualmente Così No Magari Un altro Svincolatore Un altro Acquistore Come Ericsson Vediamo Poi c'è Qualcuno Ragazzi Giorgio Dice Perché Non provare A fare In offerta No 80.000 È un attaccante Abbastanza Forte Perché Non provare No Ho trovato Lui Ma Provavo A prenderlo In prestito Anzi Mettiamo Sì Mettiamo Un anno Vai Boh Tanto Per averci Un attaccante Di riserva O si E fa un po' Di numero Attenzione Ragazzi Io oggi vi ho già accettato Viva Questo è il super carciomercato Boh Il prossimo anno C'erranno Delle bombe Impressionanti Ma che bello Accettiamo anche per lui E vabbè A parte Il carciomercato Ormai Termini V Bella roba Bella roba Davvero Tanto Comunque Il birbao Ha rifiutato Ma vabbè Era uguale Tanto Tanto Per provare Attenzione Volano armstrong Ma poverini Rifiuta Ciao belli Mi dispiace Bordeaux E insomma Ragazzi Mercato Si conclude così Come ho detto Prima Appena ho acquistato I Georgievich Sperando che non succeda Qualcosa Perché ne tanto Può succedere qualcosa L'anno dopo Anche se prendi Un giotore svincolato Cioè che poi Sarà svincolato Ovvero scherzo Di un tratto A volte può succedere Che non vengano Quindi diciamo che Se tutto va a buon fine È stato un super carciomercato Visto qui Davvero Impressolente Almeno Nel mio punto di vista Il miglior carciomercato Per ora Fatto In questa serie Sare qua Vai Per la sentire Fine corretto Comunque Allora Il video termina qua Spero che Per quanto è stato lungo Abbiamo trovato In virgolette Interessante Questo calciomercato E spero che anche voi Lo reputate Reputate Bello Potente Come calciomercato Comunque Allora Ci lasciamo Allora Arriva il calciomercato Insomma La squadra è così Vabbè Ero tutti stanchi E E a livello di classifica Avevamo messi così Purtroppo Abbiamo perso Tutta la partita Con il Napoli Però Con il Napoli Sempre Contro il Napoli Siamo passati in Coppa Italia Quindi diciamo che Alla fine Non siamo messi così male Anche da punti di visare Coppa Italia Eventualmente Boh Chissà se magari Riusciremo A avvicerla Magari a Portarci a casa Per la prima volta La Coppa Italia Comunque Arriviamo alle conclusioni Quindi Innanzitutto vi ringrazio In primis Per la visualizzazione Come sempre Grazie tante E poi Vi ricordo Di fare E ramettere Se volete Queste tre cose Ovvero Mettete a punto Un bel mi piace al video Condividetelo Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Perché? Perché così facendo Rimarrete aggiornati Su tutti i video Che caricherò Ma soprattutto Su tutti quelli Inerenti a questa serie qua Ovvero Livorno State of Mind Sì Classichi Classichi Classici Discorsini finali Che ormai Sono diventati Una prassi Vabbè Insomma ragazzi Siete visti Ci vediamo al prossimo video Inizieremo a giocare Subito contro il genere Anzi Guardi Per essere Ve lo metto subito Per essere corretti Vai Via Ci vediamo al prossimo video ragazzi Vi aspetto Ciao Tutup U frig好 Ciao drastically Vamos WE hu Like Ban Ta Petri 温 ливо take ños Grazie.